Come sarà il mondo del fotovoltaico nei prossimi 12 mesi? Siamo stati a Rimini per cercare di scoprirlo all'edizione 2025 del Key Energy Transition Expo. La fiera italiana più importante del settore è tornata in scena dal 5 al 7 marzo e quest'anno per ben due giorni ho incontrato i responsabili marketing di tanti top brand per chiacchierare con loro di novità, situazioni del mercato e prospettive per il futuro. In questo e nei prossimi video vi porterò a conoscere produttori di pannelli, inverter, sistemi di accumulo e V-charger, fornitori di servizi e scopriremo la loro visione del mercato delle rinnovabili, le previsioni per il 2025, la strada che intendono seguire nella realizzazione dei nuovi prodotti ma soprattutto approfondiremo gli aspetti di quello che ho scelto come tema fiera di quest'anno che è la gestione efficiente dell'energia prodotta. Come vi ho già detto in uno degli ultimi video sarà sempre più importante contenere la quantità di energia immessa in rete per questo sono andato alla ricerca delle soluzioni per migliorare la produzione, accumulare l'energia e per autoconsumarla sistematicamente cedendo nel meno possibile la rete. Ah, e naturalmente tornerà immancabile anche il gadget contest. Ma sto correndo troppo. Primo giorno. Sette anni fa quella che stiamo per andare a visitare era una piccola parte di una fiera contestuale ad Ecomondo. Oggi ha riempito tutta la fiera di Rimini. Il tema di quest'anno del mio video della fiera è la gestione dell'energia prodotta dall'impianto quindi non tanto i componenti per produrre l'energia quanto i sistemi per sfruttarla nel modo migliore. Benvenuti a Chei 2025. È mercoledì mattina quindi è il primo giorno di fiera per tutti. Questa prima parte della giornata ce la prendiamo comoda per curiosare un po' per iniziare ad orientarci e poi io mi devo un attimo abituare alla compagnia della troupe di Data Driven Solutions che quest'anno mi assiste evitandomi quelle drammatiche inquadrature calanti di fine giornata. Mi sono proprio imborghesito quest'anno come ha detto Calabro. Cos'è questo che sembra un enorme lettore cd per i millennial come me? Il Daysbox C. È una stazione di ricarica. Ne parliamo sul mio canale proprio perché è uno strumento complementare al fotovoltaico. Perché parliamo di mobilità elettrica? La convenienza della mobilità elettrica è appunto nell'autoproduzione quindi nella produzione con il fotovoltaico. Avere un'auto elettrica senza avere il fotovoltaico è paragonabile ad avere un'auto classica perché dovete comunque andare al distributore di energia elettrica e non di benzina però insomma il concetto è lo stesso. Cambia il paradigma avere un impianto fotovoltaico perché evitate di andare a comprare l'energia al carburante tra virgolette da qualcun altro. Parlando di mobilità elettrica ragazzi non possiamo non parlare di Tesla ovviamente. Le due novità di quest'anno sono la Model Y che si commenta da sola ma la cosa importante per il nostro canale è la Powerwall 3. Powerwall 3 che diventa non solo una batteria AC ma un sistema all-in-one con anche l'inverter per il fotovoltaico. Quindi abbiamo modo di usare solo questo e avere un impianto fotovoltaico completo. Entriamo direttamente in questo case con l'uscita dei pannelli e con la rete AC e dentro abbiamo un modo di accumulare 13 kilowattora e mezzo un sistema all-in-one ovviamente conforme la C021 quindi è utilizzabile in qualsiasi utenza in bassa tensione. Grande lavoro di Tesla sicuramente anche per ridurre le dimensioni perché 13 kilowattora e mezzo più l'inverter in queste dimensioni è sicuramente un grande lavoro in un metro e uno per 60 centimetri per 193 è veramente piccolissimo rispetto ad altri sistemi. Un ottimo prodotto sicuramente un ottimo design le specifiche tecniche le vedremo magari in studio. Nel programma di appuntamenti ho cercato di spaziare il più possibile tra Italia, Europa e il resto del mondo. Tra l'altro ho cercato di razionalizzare un po' l'organizzazione degli appuntamenti quindi oggi mi concentrerò sui settori A e C dove troviamo produttori di moduli e tutto il settore della mobilità elettrica mentre domani sarà il vero tour de force perché saremo nei settori B e D dove incontrerò i produttori di inverter e di sistemi di accumulo. Siamo di nuovo qua come l'anno scorso, ormai non ha bisogno di presentazioni, Francesco Emmolo di Longi. Allora Francesco come l'anno scorso abbiamo il nostro format di interviste, cominciamo subito così tanto lo sappiamo, presentazione del brand. Allora innanzitutto grazie di nuovo Andrea, bentornato. Il brand spero che non abbia bisogno di presentazioni lunghe, Longi è il produttore di moduli più innovativo al mondo diciamo siamo leader tecnologici ormai diciamo universalmente riconosciuti da anni, tutte le ultime innovazioni tecnologiche perdonami introdotte nel nostro settore lato moduli sono riconducibili a Longi, sono stati i primi a muoverci sul monocristallino, i primi a utilizzare i moduli bifacciali e adesso siamo i primi ad avere il back contact su scala multi gigawatt. Passiamo in questa parte che è più legata ai sistemi per il fotovoltaico, infatti vedete ci sono queste strutture di inseguitori, le pensiline fotovoltaiche infatti se vedi anche lì sono interessanti anche queste soluzioni qua con la pensilina già pensata per portare i pannelli che naturalmente sotto ha la possibilità di ricaricare il veicolo elettrico. Questa è una delle cose che vediamo già in alcuni parcheggi ma secondo me diventeranno sempre più comuni anche nei nostri cortili e questi sono un esempio di strutture per il fotovoltaico che sono delle schermature solari che non vanno completamente a coprire la luce però sono dei vetro vetro che non hanno la cornice attorno che si usano spesso per le serre o per altre soluzioni come l'agrivoltaico, se ne è parlato tanto negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo però è ancora poco utilizzato in Italia che sfrutta lo stesso principio di solito negli anni passati si sono fatte le strutture con questo stile installativo, adesso con l'avvento degli incentivi per l'agrivoltaico del PNRR ci stanno sviluppando sempre più progetti di questo tipo su larga scala come si vede anche qua, di solito su coltivazioni tipo le viti che non hanno necessità di sole pieno in pratica e poi insomma sempre in questa parte qua ci sono tutte le altre strutture per il fotovoltaico, le strutture di fissaggio, gli inseguitori solari, questo è il padiglione un po' più tecnico, un po' più da installatori però ci sono soluzioni interessanti come per esempio il fotovoltaico da ringhiera, il fotovoltaico da balcone che in questi anni ha spopolato per i condomini, quelle cose lì, meno male che iniziano a fare delle strutture un po' più ingegnerizzate. Allora mentre gironzoliamo vi racconto un po' di dati, il KEI è ai massimi storici, nel 2024 le presenze contate erano 53.000 e quest'anno si aspetta un aumento del 20%, l'esposizione oggi occupa 4 padiglioni in più rispetto allo scorso anno per un totale di 90.000 metri quadri lordi e di conseguenza sono aumentati del 20% anche gli espositori che nel 2025 arrivano a più di 1000. Per curiosità sono andato a rivedere i dati della prima fiera che vi ho raccontato sul canale, correva l'anno 2018 e il KEI Energy occupava 29.000 metri quadri di fiera, meno di un terzo della fiera di oggi. Se andate a vedere i video degli anni scorsi noterete proprio la progressione della fiera è il segno evidente di quanto il settore delle rinnovabili in sette anni si sia rafforzato e coinvolga oggi sempre più persone. Allora continuiamo a girare per il padiglione delle strutture, ho trovato questa struttura molto strana. Con il super bonus è nata la soluzione dei pannelli in facciata perché nei condomini è sempre molto difficile trovare lo spazio per installare i pannelli e installare il numero giusto di pannelli per quelli che servono. Allora si sono inventati il fotovoltaico in facciata. Questo di Contact Italia è un sistema per montare i pannelli fotovoltaici verticali sulle facciate degli edifici. SunPower! Ci sono dei nomi i moduli più efficienti al mondo. Siamo qui al loro stand per scoprire il Maximal 7 che supera il 24 per cento di efficienza quindi un modulo che a parità di dimensione rende di più perché quello è poi il concetto di avere un'alta efficienza di modulo. Leggo adesso con voi 40 anni di garanzia cioè una garanzia lunghissima diciamo oltre forse 10 anni più della media, 10-15 anni più della media. Qual è la durata media di un pannello? Nessuno lo sa in realtà la durata effettiva di un pannello solare. Quello che sappiamo sono le garanzie, gli anni in cui il produttore garantisce l'integrità del pannello, l'efficienza del pannello, il calo lineare dell'efficienza del pannello e in questo caso siamo davanti a un top di gamma. Qua c'è l'inverter, il sistema SunPower per la conversione diciamo, l'inverter e le batterie. Inverter molto interessante perché è in grado di interfacciarsi con la Smart Home che è sicuramente il futuro, cioè è la direzione che il fotovoltaico deve seguire per riuscire a coordinare produzione e consumo. Il fatto di riuscire a interfacciarsi con il sistema di gestione smart è sicuramente qualcosa di molto importante. Perché è importante questa cosa? Perché fino all'anno scorso la maggior parte dei sistemi aveva il proprio meter, il proprio sistema di monitoraggio e in base a quello che rilevava il suo sistema di monitoraggio gestiva l'inverter, ok? Sto consumando 10, accendo l'inverter oppure scarico la batteria. coordinandosi con una Smart Home, l'inverter è molto più efficace, l'inverter può sapere quasi in anticipo come comportarsi e so che c'è la lavastoviglie Samsung che è programmata alle 3, alle 2.59 inizio a scaricare la batteria per avere il massimo della copertura del consumo. Ecco perché secondo me tutti i costruttori di inverter dovrebbero puntare anche su questo interfacciamento sull'Internet of Things in pratica. Allora siamo qui allo stand di SunPower. SunPower è uno dei maggiori produttori di pannelli ad alta tecnologia e siamo qui con Fabio Bachin. Sono il direttore commerciale Italia e anche uno degli amministratori della SunPower Italia. Faccio questo lavoro dal 2007 ed è una vera e propria scelta di vita, ecco diciamo, credo fortemente nel rinnovabile. Presentaci SunPower in un minuto. SunPower non è solo produttore di moduli ma è produttore di celle. Siamo nati 40 anni fa, quest'anno celebreremo i 40 anni di vita. 40 anni che è esattamente la garanzia che diamo anche sui nostri migliori prodotti. Siamo pionieri lato tecnologia ma siamo dei pionieri anche lato modello di business. Abbiamo un modello rete partner quindi cerchiamo e selezioniamo i migliori installatori del mercato per dare il miglior prodotto e i migliori installatori. Questo vuol dire trasmettere al cliente finale la migliore esperienza. Allora siamo da V2C con Brigitte che ci parlerà di V2C visto che l'abbiamo già conosciuta perché io ho già fatto una recensione. Infatti sono lì in uno dei video ma per chi non vi conoscesse ci presenti V2C? Assolutamente. Allora io appunto sono Brigitte e mi occupo del commerciale Team Italia. V2C è un'azienda spagnola che è nata ormai nel 2012 e che diciamo in questi anni si sta consolidando anche nel mercato italiano. Noi siamo produttori di wallbox, colonie per la ricarica dell'auto elettrica quindi produciamo dall'hardware al software tutto concentrato a Valencia dove abbiamo la nostra produzione e spaziamo diciamo quella che è la produzione da classica wallbox per il residenziale che poi si sposta nel semi pubblico fino poi al pubblico. Diciamo che abbiamo un po' tutta la gamma prodotti che è qua dietro. Quindi abbiamo il residenziale, questo pubblico, semipubblico in realtà questo già è semipubblico perché vedi che è il Triton Pro. Abbiamo il Triton Line che è quello che ho visto io. Pensate che il problema dell'auto elettrica sia la ricarica e che non cambi molto tra andare in una stazione di ricarica a caricare elettricità oppure dal benzinaio a caricare benzina. Questa è la risposta al vostro dubbio. Fotovoltaico, colonnina di ricarica, energia prodotta gratis, ovviamente al netto del costo del fotovoltaico, però energia autoprodotta che va nella nostra auto e che sarebbe praticamente come prodursi la benzina da soli in pratica. Abbiamo parlato tanto di transizione 5.0. Qua abbiamo un esempio di un pannello che può accedere al contributo della transizione 5.0. È un pannello Paymar che è un'azienda italiana che presto vi porterò a visitare. Andremo anche a vedere proprio dove viene prodotto questo modulo. Adesso non riusciamo ad avere un addetto marketing pronto perché effettivamente c'è tanta affluenza in questo stand, però Paymar oltre ai pannelli prodotti in Italia fa anche un sacco di altre cose. Per esempio l'inverter, partiamo dall'inverter, questo è l'inverter industriale, quelli sono inverter un po' più portati a residenziale, inverter monofase, inverter trifase, i microinverter, vieni che ti faccio vedere, questi sono dei microinverter a due ingressi che portano due pannelli ogni microinverter. Cosa sempre interessante di Paymar, che non tutti fanno, veramente pochi produttori di pannelli fanno, sono i pannelli colorati. Perde un po' di efficienza, però in Italia abbiamo il vincolo storico e paesaggistico e quindi a volte la sovrintendenza ti chiede il pannello del colore più simile possibile dal tetto e quindi ecco che saltano fuori i pannelli rossi. Visto che parliamo in questa fiera di ecosistema, abbiamo l'accumulo e la colonnina di ricarica e così il cerchio è completo. Dal pannello all'inverter, accumulo, colonnina di ricarica, sicuramente è un'azienda italiana che si impegna a creare tutto un ecosistema per il fotovoltaico ed è un'azienda interessante quindi ho preso accordi, andremo a vederla. Questo primo giorno sicuramente ha riconfermato le mie aspettative sulla fiera che ho trovato già con una grande affluenza di pubblico, infatti oltre agli addetti ai lavori ho visto tanti ragazzi e persino qualche bambino accompagnato dai genitori ovviamente, piccoli innovatori crescono. Che dire della giornata di oggi, è sempre rassicurante trovare in ottima saluta i brand storici come Longi e ritrovare marchi iconici come Sunpower anche dopo le complicate vicende societarie dell'ultimo periodo, che poi ho scoperto essere più anagrafiche che altro, ma è una storia complicata. È stato molto interessante anche sconfinare nel mercato delle stazioni di ricarica elettrica perché abbiamo approfondito la conoscenza di strumenti che possono alzare di molto il ritorno economico del vostro investimento nel fotovoltaico. Arriverai a dire che una stazione di ricarica privata non ha senso senza fotovoltaico e che il fotovoltaico perde un 30% del suo potenziale valore se non lo sfruttate per ricaricare la vostra auto. Infatti credo che comincerò a parlare più spesso sul canale di questa tecnologia. Non perdetevi il video della seconda giornata perché come vi ho detto sarà pieno 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 di incontri, quindi cliccate su iscriviti se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di visitare il mio sito andreapicinelli.net per progetti, pratiche, assistenza e formazione sugli impianti fotovoltaici anche con i listini ufficiali. Cliccando qui a sinistra in alto continuerete la playlist dedicata al K2025 mentre qua in basso potete entrare nella serie delle mie recensioni dei prodotti. Grazie come sempre dell'attenzione e un saluto da andreapicinelli.net